Sono 55 gli ammonimenti adottati dall'acquistore di Salerno Giancarlo Conticchio, di cui 31 per atti persecutori e 24 per violenza domestica, con relative 5 sospensioni di patenti emesse dalla Prefettura di Salerno, dopo un'attenta valutazione dei fatti o oggetto di violenza, nonché del contesto lavorativo e familiare degli ammoniti, dato quest'ultimo riferito ai soggetti ammoniti per violenza domestica nella primo trimestre del 2023. E' questo l'impegno della Polizia di Stato relativamente alla violenza sulle donne. In una nota, infatti, la Polizia spiega come l'allarme sociale, destato da quotidiani episodi riconducibili al fenomeno della violenza di genere, intesa come violenza psicologica, fisica, sessuale e economica, in particolare nei confronti delle donne, ha cresciuto l'attenzione rivolta al contrasto di tale fenomeno criminale e alla necessaria tutela delle vittime.